Preso di mira l'alto ieri. Pubblicata una registrazione di un dialogo. Qualcuno deve darci una risposta. Sembrano avviati alla resa dei conti. Non sono eventi scovarici. Un nuovo terremoto sta scutendo la corte. Una corona fasulla di una istituzione fasulla. A colpirmi l'unica volta. Al centro dell'attenzione. Ad una larga corrente di interessi. Cercano la donna, che ha catetizzato il sindaco. Che sta inclinando la storia d'amore. Clima di piombo nel brutto. Con l'amore. Rappresenta la scelta di un certo materializzarsi. Da centinaia di forti. Di oggi viene. Dove tuttora abita dopo la maturità. E la città. E cuocere come si vuole.